E come m'hai trovato? Nessuno ce l'ha mai riuscito. Va bene. Va bene. Adesso sei qui. A parte il fatto che stai a pochi metri da quello che stai cercando. Alla fine siamo dove dovremmo essere, che significa, il tuo uomo è il mio left finger sul triggere, ma è un fuoco troppo vicino, che rendersi il tuo uomo al mio right, non lo so, non lo so, non lo so. 9 secondi. Non lo so, che ci sono dei dovuti a decisionsi di nostro fate. 9 secondi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.